Assessore, c'è stato un incontro in Regione un paio di giorni fa, si è parlato dell'antica Croton. C'è stata giunta regionale, è stata formalizzata l'approvazione delle rimodulazioni e anche della rimodulazione delle schede di convenzione. Questo è un risultato di cui non solo siamo contenti perché è un risultato importante, perché veramente diamo impulso all'inizio delle attività. Per quanto riguarda l'antica Croton, che cosa emergerà? Allora, intanto così come è stato anticipato anche dal sindaco, di concerto con il dirigente e il dottore senatore, noi subito procederemo all'identificazione del team di lavoro e poi all'affidamento della progettazione a CUC esterna per poter iniziare a lavorare. Qual è la zona che sarà interessata da tutto questo? Si cercherà, ma questo ovviamente non compete a me, ma al dirigente un po' avere contezza di come lavorare, ma ci sarà da iniziare a lavorare su più fronti se vogliamo completare tutto entro il 2025 che è dopo domani. Quindi questo significa che avremo la possibilità di vedere questa antica Croton che è sotto i nostri piedi? Beh, questo assolutamente. Si tratterà veramente di far riemergere Antica Croton. Adesso scatta forse la frase più delicata che è legata e che collima con l'inizio dei lavori. La frase più delicata è quella di come cittadini sentirci corresponsabili di questo progetto. Questo è un processo delicato ed importante perché Antica Croton non è soltanto far venire fuori delle pietre, altrimenti resterebbe soltanto qualcosa per addetti ai lavori. Antica Croton è un progetto che ci interroga e che soprattutto ci interpella riguardo alla nostra identità. È il progetto di tutti e con l'energia di tutti dobbiamo farlo crescere e far andare avanti il più speditamente possibile.